Ciao Valentina, la prof di LinkedIn, oggi parliamo di una cerchia che è attorno a noi e che magari non sappiamo riconoscere. Sono gli hub, ovvero i connettori. Da una persona possiamo ottenere più contatti, che significa che questa persona ci consiglia a tutte queste altre persone. Quanto sarebbe bello avere più di un hub che ci consiglia regolarmente a più persone, ok? Significa, significherebbe veramente tanto, soprattutto per un'azienda o libero professionista, ma anche per chi sta cercando lavoro. Allora, se veramente vuoi fare un esercizio del genere, prendi un pezzo di carta e scrivi quali persone potrebbero fornirti altri contatti. Ovviamente dopo aver creato un solido rapporto umano, prima. Fallo, poi scrivilo qui sotto, se vuoi taggale e cerca di sviluppare il rapporto umano e commerciale che hai con loro per tenerteli a lungo, ok? Questo è tutto, mi raccomando, esagera sempre!